Finisce con una sconfitta di misura condita dal giallo del probabile fuorigioco finale il precampionato del Teramo all'ultima uscita col Perugia prima dell'esordio di sabato prossimo al Saleri di Numezzane. Ma i meccanismi della squadra di Zauli, specie nel primo tempo con una formazione che assomiglia tantissimo a quella titolare, sembrano già un patrimonio sul quale investire nel duro torneo che attende i Biancorossi. Con Amadio ormai ai margini del progetto e con la valigia pronta in direzione latina, il ruolo del metronomo passa nelle mani di Davide Peterman. Ilari, dopo una preparazione a singhiozzo, torna dal primo minuto e lascia un'ottima impressione, mentre l'attacco veloce Sansovini-Petrella, ispirati da Carraro, mette in grosse ambasce la retroguardia Umbra. Ma al di là della sicurezza rappresentata dalla cerniera centrale di difesa, Caidi Speranza, sono gli esterni la migliore sorpresa di questo inizio di stagione. Scipioni sembra tornato sui livelli di due anni fa. Dorazio ha una marcia in più rispetto a tutti. Chiude, riparte, si propone e per la seconda volta nella preseason segna. Lo fa al ventunesimo, raccogliendo la corta respinta di Elezai sul piazzato di Peterman. Primo tempo col brivido finale, perché Mancini tocca duro Petrella e il folletto di Pratole è costretto a lasciare il campo claudicante. Nella ripresa entra Croce al suo posto, la punta si fa vedere, e Sansovini è quasi sempre presente nelle azioni pericolose. Ma il Perugia sale di tono e si vede, specie con Zebli, che prende in mano la mediana prendendo le misure a Peterman, che al sesso un tunesimo di fatto gli regala, evitando a tutti i costi il rinvio, il pallone dell'1-1. La squadra di Bucchi è diversa dalla prima frazione. Il Teramo cambia radicalmente l'11 iniziale, anche se uno dei neoentrati, Placido, costringe al 69esimo imparato al fallo da rigore. Dal dischetto però Elezai ipnotizza il destro di Carraro, col risultato che rimane invariato nonostante le squadre inizino a sentire la stanchezza e le occasioni non manchino per portare a casa l'amichevole. Ci provano Didiba e Dorazio a ridosso della mezz'ora di frazione, mentre Di Carmine, lasciato spesso isolato, chiama in causa Rossi prima del rush finale, che vede Fratangelo seminare il panico nella retroguardia Umbra e Concroce, che pecca in sicurezza e manda alle ortiche l'occasione del successo, che invece non si lascia scappare al novantesimo proprio Di Carmine, col Teramo che protesta, forse per una posizione di fuorigioco non rilevata. Conta poco, quasi nulla per entrambi. I biancorossi di Zauli chiudono il precampionato con uno stop, che però lascia in dote la sensazione palpabile che la strada intrapresa sia proprio quella giusta. Penso che abbiamo fatto una buona partita, con una buona intensità, abbiamo cercato di imporre il nostro gioco. È stata una partita dove l'aspetto principale era quello di curare bene il possesso palla, di curare già un pizzico di aggressività che ci servirà per forza in campionato. Sono rammaricato perché comunque queste partite servono anche per cominciare a cercare di ottenere risultato, quindi quando non arriva anche in questa maniera comunque dà fastidio, pur che sia un amichevole. A posto abbiamo finito il nostro periodo di preparazione, mi auguro che da lunedì anche l'infortunio di Pedrella possa essere lieve e ricominciare tutti da lunedì per cominciare questa avventura nella partita di Lumezzani.